I carabinieri hanno sventato una rapina alla banca di Carime, al centro di Margherita di Savoia. De pomeriggio alle 14, un malfattore avvolto e camuffato è entrato nell'istituto di credito e ha minacciato un impiegato con un cacciavite, intimandogli di consegnare il denaro. Se non l'avesse fatto, avrebbe preso in ostaggio un'impiegata. Sentite la sirena dei militari, il malfattore è fuggito senza bottino. I carabinieri sono già sulle sue tracce. Sul posto è intervenuto anche un'ambulanza del 118 per soccorrere il cassiere. Continua così la lotta alla criminalità imprese dalla stazione di Margherita di Savoia per garantire la sicurezza ai salinari.